Qualcuno si è presentato via mail come l'arcivescovo di Trani chiedendo soldi e quanto scoperto dalla curia che mette in guardia i destinatari dei messaggi truffa, indaga la polizia postale. Nel servizio di Alba Di Palo. Una mail truffa, un raggiro sventato, perché chi conosce l'arcivescovo di Trani Biceglie Barletta, Monsignor Leonardo D'Ascenso, sa bene che mai avrebbe chiesto soldi, né tantomeno ricorrendo a un messaggio di posta elettronica. E' così che in curia è stata scoperta la lettera di poche righe in cui si chiedeva aiuto e contanti per raggiungere la somma di 4.650 euro. Guai poi a telefonare al mittente racchiuso nell'indirizzo con la chiocciola. La preghiera è a non disturbare il vescovo perché super impegnato. Qualcuno però lo ha contattato svelando così la possibile truffa. Di fronte a questa notizia abbiamo come curia attraverso i nostri canali informato le persone che si trattava di un raggiro, di una truffa. La curia si è rivolta alla polizia postale che indaga sulla misteriosa e onerosa mail. L'invito ovviamente a chiunque dovesse trovare nella propria casella elettronica e la mail e a non assecondare la richiesta evitando così di cascare nel raggiro. Chi ha un briciolo di conoscenza del vescovo, del sottoscritto si accorgerebbe subito che non mi appartengono questo tipo di richieste e poi l'indirizzo non è il mio per cui è certamente una truffa alla quale assolutamente non bisogna rispondere.